C'è la voglia di riprendere la marcia e conquistarsi le finali di Coppa Italia nella letterina di Natale dell'Upea che domani pomeriggio alle 18 attende al Palafantozzi Trapani per il derby. Una gara delicata che arriva dopo due sconfitte consecutive ma soprattutto in un momento in cui i paladini stanno soffrendo oltremodo la mancanza di un giocatore capace di dare equilibrio come due Maze. Credo che i tempi di recupero che abbiamo stimato siano da oggi, comunque da ieri che è stato il giorno del nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di due settimane per cui sicuramente Maze non giocherà la partita con Trapani, sicuramente non giocherà la partita contro Iesi e stando a quella che è la nostra tabella di marcia dovrebbe saltare anche Imola. Dovrò andare a chiedere un ulteriore sacrificio ai miei ragazzi perché dovrà giocare la Quintana più tempo e quindi dovrà avere a 18 anni il peso e la responsabilità di guidare la squadra e dovrò chiedere a un trettontenne di giocare Playmaker che erano un paio d'anni che non lo faceva. Il baso sarà sicuramente come lo è stato a Trento disposto e disponibile, poi chiaramente la nostra palacanestro per certi versi un po' cala di rendimento. Sul fronte opposto la formazione allenata da Coach Lardo arriva con Lowery a mezzo servizio a causa di un infortunio mentre pare recuperato Baldassarre che in settimana è rimasto a riposo.